Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog, ragazzi, io sto vivendo praticamente in tuta, cioè sto amando queste tute questa è di Oceans a parte, mi sono un po' macchiata lavandomi i denti, no vabbè ma le amo questa qua me la devo prendere anche in altri colori perché è stupenda, oggi fa freddo, oggi andiamo anche alla casa nuova poi si avvicina il Natale, che bello, benvenuti in questo nuovo vlog, ma se c'è anche il cappellino poi vi faccio vedere tutte le cose nuove che mi sono arrivate da Oceans, qua c'è anche il nostro alberello ho detto il pacco, proprio poco fa, ma sono troppo felice di aver preso questo, raga, perché con questo freddo che fa questo giaccone, io prendo quasi tutto S, perché comunque è la mia taglia, alcune cose le prendo anche M se le voglio un po' più larghe, comunque la taglia vostra, spesso mi chiedete, prendete la vostra taglia io sono 40-42, la S va bene, cioè questo è bellissimo, c'è anche di altri colori, ma non vedo l'ora di mettermelo era un teddy, stupendo, e poi ho preso anche questo, vabbè, questo lo bramavo troppo bianco bellissimo, corto, col cappuccio e poi guardate, qua si chiude tutto, quindi non devi metterti neanche la sciarpa questa qua la tuta porta le scritte qua, vedete, non mi aveva fatto vedere, guardate tutte le cuciture fatte con il cotone, bellissimo poi ho preso questo, e questa qua è un top, che viene poi con i leggings e le altre cose è un set completo, comunque vi scrivo tutte le cose nel box informazione questo qua invece è il set glow, è bellissimo, questo però è natalizio, mi piace un sacco rosso che porta sia i leggings che la tuta, e mi trovo benissimo con questi super set completi perché indosso la tuta e poi i leggings a volte lo metto anche sotto vado in palestra, mi tolgo questo e mi alleno con le leggings e col top ed è bellissimo, ma mi metto questo raga, lo amo ah, poi ci sono anche i calzini, eccole qua raga questi qua uscivano nel set questo è un set che comprende anche i calzini, sono bellissimi questi calzini bianchi e neri, servono sempre quindi vi consiglio di prenderlo ovunque vi scrivo tutto nel box informazione la meraviglia, cioè la meraviglia di questo giaccone, di questo teddy, bellissimo abbinato anche alla tuta questa qua ve l'avevo fatta vedere nello scorso video la sto amando, comunque ve lo scrivo nel box informazione che modello è perché secondo me è la più bella e c'è in tantissimi colori è abbinata così, viene bellissimo questo c'è anche nero il teddy stupendo, cioè lo amo ma è caldissimo raga, cioè è troppo bello e non prude, cioè pazzesco, no va bella vita adoro guardate quanto è bello anche il corto cioè lo amo davvero e il codice ve lo scrivo subito è carlita.w wow avete un set in regalo quindi approfittate con una spesa minima di 69 euro ricevete un completo, un set in omaggio quindi potete prendere anche queste cose io ve le consiglio raga cioè sono caldissimi ma sono bellissimi questo è il corto e questo è il lungo belli, beh poi ci sono di tantissimi colori quindi approfittatevi metto il link nel box informazione se stavo facendo il petto di pollo no? però farò una versione più saporita poiché mi sono avanzate le mozzarella ieri e nel frattempo qua sto facendo i broccoli queste verdure non possono mai mancare sto facendo il ragù per Daniel con le polpette mmm buono allora mi è venuta una massa n'idea ora vi farò vedere una ricetta di un pollo sempre petto di pollo è però più sfizioso più sfizioso perché si può mangiare anzi si deve mangiare e non saranno due mozzarelline a farci ingrazzare no ragazze roba buona adesso vi faccio vedere che creo aaa mozzarella sul pollo e si fa sciogliere quello qua è un super piatto bilanciato comunque poco riso perché comunque ci vogliamo mantenere light poi ho messo il petto di pollo con la mozzarella filante e broccoli con olio sale e un po' di pepe qua c'è un'altra mozzarellina buon appetito guardate che bello allora questo è il giacchino che è bellissimo lo amo ho messo anche il cappello di natale tutto è super natalizia e questo giacchino è troppo bello perché tra l'altro ha anche il cappuccio vi faccio vedere ah no ma la bellezza di questa giacchetta ma come è calda e come è bella cioè io la amo penso non me la toglierò mai più anche se anche quella lunga è bella e anche questa corta c'è in tantissimi colori è della novità di Ocean's Apart ma vi giuro che è bellissima sopra i leggings sopra i jeans guardate poi questo completo questo è il glow set che è tutto rosso super natalizio mi piace tantissimo abbinato al bianco comunque potete fare tutti gli abbinamenti che volete questo qua porta come vi ho detto sia i leggings infatti adesso mi devo andare a allenare con il top bellissimo sia il pantalone della tuta quindi è comodissimo perché magari se tipo non vi dovete allenare dovete scendere così vi mettete la tuta e con questo sopra oppure quello lungo no ma sono bellissimi adoro questo mi piace un sacco c'è anche tipo color ghiaccio azzurrino comunque bellissimo allora il codice sconto c'è una bellissima promo perché potete avere proprio un set in omaggio gratis col mio codice carlita wow carlita w comunque ve lo scrivo avete con una spesa minima di 69 euro quindi ad esempio potete prendere una cosa due cose avete un altro set in regalo quindi è una bellissima occasione già se prendete ad esempio solo sta giacchetta avete un set in regalo cioè prendete solo la giacca e avete un set gratis oppure potete prendere un set e ne avete un altro gratis comunque potete prendere quello che volete e il codice carlita w wow comunque ve lo scrivo in box formazioni vi metto anche il link sotto comunque no ma sono bellissime tra l'altro queste qua erano andate già soldato una volta quindi se vi piace fate in fretta vi faccio vedere anche così il tessuto quanto è bello perché poi qua c'è il tessuto tutto peluscioso e qua c'è l'elastico quindi veramente veramente di super qualità no veramente sono belli sapete che io ci tengo alla qualità ma questi sono veramente ottimi ve li straconsiglio approfittate perché ne rimarrete troppo troppo contenti perché è veramente bella io vabbè in particolare questa qua ma veramente me la prenderò anche di altri colori per ora ho preso una corte e una lunga ma vi giuro cioè sono bellissime anche nera anche altri colori adoro tra l'altro ragazzi la cosa che mi fa morire è che alcune persone hanno visto che magari per un po' di pancetta magari con un abito insomma in alcuni momenti si mette più di denze semplicemente perché magari mangio un po' di più eccetera ah ma sei sei incinta ah ma quel pancino sospetto magari anche si con detto con affetto però non è bello perché dietro non potete sapere innanzitutto se c'è una donna che magari sta cercando una gravidanza e non ci riesce e io vi giuro che ogni giorno sono mi scrivono tantissime ragazze che hanno questo problema e non vi dico quanto ci stanno male quindi sono particolarmente sensibile a questo tema e oppure magari magari uno sta mangiando un po' di più magari ha una pancetta perché magari prende dei farmaci non potete sapere ha problemi intestinali e si fa notare questa cosa insomma non è bello comunque si sono un po' ingrassata però va bene così sto mangiando durante le feste è bellissimo però continuo sempre ad allenarmi amarmi ragazzi ho tante ho finalmente guardate qua che fianco ho un bel culo ho delle curve e mi amo così mi piaccio e mi amo amatevi anche voi anche qualche chilo in più allenatevi sempre perché io vi dico per me non è importante essere magra per me è importante essere tonica ed essere giovane io per quello mi alleno perché voglio stare in forma voglio essere tonica non mi voglio afflosciare e voglio essere in forma quindi tutte le ragazze che hanno i culi grandi le forme belle sinuose belle femminili ragazze ma c'è ma che bello non c'è una cosa più bella guardate di avere un po' di carne è bello allo stesso tempo anche chi è magra ci sono anche ragazze magre che magari non riescono a ingrassare anche qui lo so perché io da dieci anni ho a che fare con le donne con voi che mi scrivono qualsiasi problematica quindi sono sensibile al rispetto in entrambi modi bisogna avere rispetto e amarsi sempre a prescindere dal chilo dalla forma fisica allenarsi perché ci si ama quindi sia che siete magre normopeso in sovrappeso amatevi a tavola nel senso che a tavola che significa mangiate bene però concedetevi anche le uscite fuori allenatevi tutto dovete fare perché vi amate non vi dovete mai guardare anche se magari vi guardate e notate un difetto quel difetto deve essere per voi cioè vi dovete coccolare in quel difetto perché magari proprio quando avete qualche chilo in più o comunque magari siete stressati avete bisogno delle vostre braccia del vostro supporto quindi vi dovete amare voi in primis questo è qua comunque detto ciò per il momento quindi nessun bimbo in arrivo ma anche se adesso fossi incinta ecco questo è importante non ve lo direi adesso quindi non potete sapere ve lo direi sempre più in là perché sono molto scaramantica anche l'altra gravidà spero che così qua a Napoli noi siamo un po' scaramantici al sud e si dice insomma più in là non si dice i primi mesi non si dice grazie questo è il risultato delle mie storie che ho fatto per Natale perché stiamo annunciando la promo Carlita Shop perché abbiamo messo la promo di Natale sul sito guardate qua ci ho aperto una cosa di coriandolo non per nemmeno ha fatto una botta che ti giuro cioè vi giuro sembrava dove sta lo scatolo là sembrava tipo è arrivato il terremoto sono pazza guardate qua oggi iniziamo questo vlog lui tutto visito natalino oggi abbiamo uno shooting di Natale e c'è giusto arrivato in tempo un pacco speciale che noi aspettavamo con i nostri abiti disegnati appositamente da noi dalla Sartoria Partenopea mia lui tutto sua dalla Sartoria Partenopea te ne vuoi andare comunque eccoli qua ragazzi Sartoria Partenopea loro fanno tutto a mano e mi hanno fatto pure il vestito del compleanno di Daniel se vi ricordate si trova a Napoli li trovate su Instagram seguiteli e se vi dovete far fare qualche abito contattateli per i bimbi donne incinte e anche non incinte e mi hanno fatto questo qua per i bimbi neonati incinte togliete a mamma guarda guardate che loro praticamente hanno disegnato questi modelli di vestiti questo è il mio sotto mia indicazione questo è di Daniel e le hanno realizzati quindi vi realizzano qualsiasi abito guardate qua anche il cerchietto il cappellino per Daniel con questo non vedo l'ora di indossarli e dopo vi faccio vedere un po' di anteprima dello shooting e poi le foto come al solito le vedrete su Instagram noi qualche foto la stamperemo anche le stiamo conservando per mettere a casa nuova ma guardate quest'abito quanto è bello c'è il colore è stupendo vabbè lo amo ti piace amore si è bellissimo ma lui per chi sta a terra per il donato vabbè comunque sartoria partenopea ragazzi grazie mi raccomando seguiteli se vi serve un abito qualcosa per i vostri bimbi per le mamme contattateli che fanno cose veramente veramente uniche poi la qualità è altissima ragazzi adoro vi amo sartoria partenopea ragazzi oggi c'ho un look parigino adoro mi sto andando a fare lo shooting di Natale con Dani adesso vi farò vedere tutto ma sono troppo felice ovviamente senza calde fanno cacchie e freddo e niente sono troppo troppo felice di questo questo look natalizio bello smalto natalizio maglione cappello il biondo appena fatto guardate quanto è bello il mio biondo adoro c'è capelli bellissimi bello vi piace? ti volevo presentare anche su youtube ciao lei è Mariella cattura un sogno siamo venuti a scattare le foto di Natale ragazzi bellissimo Daniele si sta divertendo un mondo le foto le vedrete su instagram quindi seguiteci questo libro si diverte ehi bravo mamma sei bravissimo mamma saluta all'aereo saluta all'aereo ciao aereo ciao ciao meraviglioso qui ragazzi poi venite su instagram venite a vedere le foto cattura un sogno si chiama la pagina c'è anche il mio amore c'è anche il mio amore vicino a teddy ti vuoi sedere vicino a teddy vai daniel aspetta daniel aspetta tira tira mamma tira uno due guardate che bello la casina vanviteliana a bacoli ragazzi dovete venire tutto illuminato adesso ne va a vedere il tramonto daniel dorme ogni volta scendiamo si addormenti qui ci si fa la foto con la buona guardate che bello ragazzi guardate che bello adesso sta tramontando ed è l'orario perfetto perché si vede il tramonto e poi si illumina tutta la casina è un amore molto suggestivo daniel continuo a dormire che bello la scioccolata calda con le canzoni di natale adoro daniel dorme sempre ecco la mia ci sono tente si amore con il latte e un amore bianca oggi abbiamo fatto la genovese questa la fatta a papà è meravigliosa piena di basilico via piano ecco la festa suseppe ecco la stessa in in un amore è in l'opera l'un amore Grazie a tutti.